Oggi facciamo una video velocissima sulle ricariche del mangia pannolini Tommy Dippy. Se ve l'hanno regalato vi arriva esattamente così e vi arriverà a vuoto, cioè senza i sacchetti. Per risparmiare dovete comprare queste ricariche che sono compatibili, dati da Amazon, link in descrizione. Per inserirlo bisogna tirare fuori questo, faccio un nodo e lo metto dentro così. Questo si va a inserire qua dentro e praticamente è già fatto. Così è pronto. Per risparmiare della prossima volta, al posto di ordinare questo ricambio qui, ordinerete questo. Link in descrizione sempre per il codice del prodotto. Bisogna prendere questo e aprirlo. Quindi, specialmente, lo aprite. Anzi, la prima volta comprerete questo codice, qua si guarda lo metto in descrizione, che è questo, più questo rotolo di cartone che vi aiuta per inserirlo. La prossima volta ancora potete comprare solamente questo. 400 metri dovrebbe durare un sacco di tempo. Quo' anche se lo svolgifili. Plasticato! Andiamo. Andiamo. Capitato! Ok, così potremmo anche l'aspera Forse Lo togliamo Lo mettiamo così Quindi rimontiamo il suo pezzettino di plastico Ok Possiamo già prepararlo per il prossimo uso E' pronto Poi questo Esattamente come quell'altro Lo si monta così Ok Quindi Riepilogando La prima volta Se non ce l'abbiamo Dobbiamo comprare questo codice qui Sempre link in descrizione La seconda volta prendiamo quest'altro codice Che è comprensivo del rotolo di cartone Invece Invece Dalla terza volta di poi Compreremo solo questo codice qua Che è praticamente quello più economico Ok, direi che abbiamo detto tutto E niente, ci vediamo alla prossima Mi raccomando Iscrivetevi al canale Un bel like Un bel like Per sostenere un po' il canale E niente Ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao